L'amore chiede l'amore. All'amore tu non puoi dare altra risposta che altrettanto amore. Ed è questa in fondo la nostra fede verso il Signore. Ci ha tanto amato da dare la sua vita e noi cosa possiamo fare? Non obbedire a dei comandamenti, ma amarlo. Per vivere l'amore il primo ingrediente è l'umiltà. Considerare l'altro più importante di me. Un altro ingrediente per l'amore è la pazienza, la benevolenza, la tenerezza, il rispetto, il dialogo. E aggiungerebbe una parola, il sacrificio. Perché la vita dell'altra, dell'altro, ci è più, ci è preziosa. E questo è amarsi. Fare della mia vita un dono perché l'altra, l'altro sia felice. Non è facile nei tempi di oggi, eh? Educati a volere tutto per noi stessi. Io, 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 io. E io, 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 io. E produce l'egoismo. E l'egoismo è il veleno, è il contrario dell'amore. E io, 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 io. E io, 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 Grazie a tutti Grazie a tutti